I senatori, dominati dalla sola paura, dinanzi a questo discorso apparentemente rinunciatario, dalla sola paura di lasciar trasparire che capivano, si effondevano in lamenti, lacrime, preghiere, tendevano le mani agli dèi, alla statua di Augusto, alle ginocchia di Tiberio, quando questi ordinò che si portasse e si leggesse il bilancio dell'impero, il breviarium che ho detto prima, dove erano registrate tutte quelle cose che vi abbiamo prima ricordato, compresi il bilancio, le truppe, l'entità dei soldi nel fisco, dell'erario, eccetera. Il Senato si abbassava alle suppliche più umilianti quando scappò detto a Tiberio che, mentre non si sentiva all'altezza di reggere tutto lo Stato, avrebbe però accettato il governo di quella parte che gli fosse affidata. Asinio Gallio, che non ha capito niente evidentemente, dice ti chiedo Cesare, Cesare è l'epiteto, quale parte vuoi che ti sia affidata? Sconcertato dalla improvvisa domanda, per un po' rimase in silenzio Tiberio. Poi ripresosi, rispose che non si addiceva al suo riservo scegliere o ricusare ciò a cui preferiva sottrarsi del tutto. Questa scena si protrae fino a che è chiaro che lui è l'erede a tutti gli effetti. Ed è il passaggio definitivo alla monarchia camuffata da principato, come altro lo si voglia chiamare. Monarchia, rex, regnum sono parole politicamente inaccettabili a Roma, sono reati, crimini. Princeps è un concetto morale, è un'egemonia fondata sulla capacità, sulla bravura, sui legami e ha una sostanza. Vi ho detto prima, ma non voglio tirare troppo in lungo, che Tacito fa questo dittico, quello che si diceva elogiando il defunto Augusto, e quello che dice batur contra, quello che si diceva invece in alteram partem, diciamo così. Ed è un catalogo di crimini, in sostanza. Molto sapientemente costruito da Tacito, anche qui sicuramente debitore di storiografia contemporanea, di testimonianze contemporanee, Pietatem erga parentem et temporarei pubblici obtentui sumpta. Cioè lui aveva come pretesto della propria ascesa illegale, addotto che faceva tutto questo per pietas, verso il padre. E anche perché i temporarei pubblici erano talmente terribili che quei comportamenti si potevano giustificare. Questo è il cuore dell'autorappresentazione che Ottaviano ha dato di sé. Tutto quello che io faccio, dall'inizio stesso, dallo sbarco a Brindisi, quando arriva ad Apollonia in Epiro, dove lui stava, la notizia che Cesare è stato ucciso, lo faccio perché hanno ucciso mio padre. Lui apprende di essere diventato figlio di Cesare quando si apre il testamento. Era il terzo testamento che Cesare aveva fatto. E Cesare aveva intuito la bravura, l'intelligenza politica, la maturità estrema di questo giovanotto, diciottenne, diciannovenne. Quando sbarca a Brindisi, anzi vicino perché era un po' pericoloso, Brindisi era un porto importante, poteva trovare qualche attentatore anche lui, Per prima cosa chiede, e lo racconta a piano, cioè lo racconta lui stesso ancora una volta nei commentari, quanti hanno pugnalato Cesare? Quanti senatori sono rimasti neutrali? Quanti senatori hanno approvato l'attentato? Chi è rimasto in Senato dopo l'attentato? Cioè si fa subito dare un quadro preciso dei rapporti di forza all'interno del Senato nel momento stesso dell'attentato. Stiamo parlando di un quasi adolescente. E capisce benissimo che soltanto l'impostazione vendicare il padre, che è quell'uomo carismatico che le legioni adorano, sarà la strada maestra per la sua carriera. E questo spiega quello che apparentemente è contraddittorio, nel opuscolo sarcastico dell'imperatore Giuliano, quindi parliamo del IV secolo dopo Cristo, Caesares, i Cesari, a un certo punto appare anche Augusto naturalmente, e viene apostrofato come camaleonte. Perché? Ma con l'allusione alla disinvoltura con cui ha cambiato alleanze senza alcun fremito. Ma in questo caso, contro la definizione facile di Augusto Camaleonte, credo che si debba rivendicare invece la lucidità con cui è stato sempre coerente, avendo assunto come linea di condotta l'unica giusta in quel momento, ed è impressionante la maturità politica di quest'uomo, per avere la fedeltà delle legioni, operare come esecutore testamentario e vendicatore del capo carismatico ucciso. Per cui l'alleanza col Senato per colpire Antonio a Modena è giustificata da lui ampiamente. Antonio ha accettato il compromesso col Senato dopo l'uccisione di Cesare. Ha accettato che i cesaricidi venissero amnistiati in cambio dell'approvazione degli Acta Cesaris. Quindi Antonio si è piegato, ha venduto la lealtà cesariana per avere un po' di pace civile. Quindi colpire Antonio sotto Modena è parte dell'opera di vendetta del padre. Dopodiché prendere il consolato dopo la morte sospetta dei due consoli era l'unica maniera per salvare la sua posizione e quella delle legioni che il Senato gli voleva togliere. Appena diventa console istituisce tribunali speciali per condannare in contumacia tutti gli attentatori e quindi accetta il triunvirato e il patto scelerato, potremmo dire, con Antonio e Lepido perché è l'unico strumento per fare guerra a Bruto e a Cassio che si sono impadroniti delle province orientali e sono una minaccia colossale, mortale. La forza militare che hanno messo insieme a Oriente che si è cimentata a Filippi in una battaglia terribile e sviluppatasi in due giorni era temibile e se non ci fosse stata la bravura di Antonio come generale era una partita persa. e tutto il resto si svolge nel segno della esecuzione di un mandato dove la questione non può essere protratta in questa maniera e deve avere un'altra veste quando si arriva alla resa dei conti con Antonio. E lì il colpo di genio politico è indiscutibile. la guerra non è contro Antonio la guerra è contro una minaccia straniera Antonio si è asservito a un sovrano esterno che minaccia il Campidoglio e quindi dichiariamo guerra all'Egitto e la battaglia di Azio è formalmente tra la Repubblica Romana in quel momento ancora sotto governo triunvirale e l'Egitto battaglia che va nel modo che sappiamo preparata con il giuramento di tutta l'Italia di fedeltà ad Ottaviano tutta Italia è la formula che aveva usato Cicerone al momento della congiuria di Catilina tutta Italia sorreggeva il console contro l'eversione catilinaria tutta Italia sta dietro Ottaviano che salva l'Occidente l'Italia in particolare e Roma e il Campidoglio dalla minaccia della regina Monstrum cioè Cleopatra non che fosse bruttissima ma Monstrum nel senso che era il disvalore assoluto diciamo così la cultura ha servita anche Orazio che era un uomo raffinatissimo cinico scettico eccetera scrive l'Ode 37 il primo libro in cui finge di credere che il Campidoglio fosse in pericolo e per fortuna abbiamo vinto ma quando Augusto gli disse fammi da segretario dice no non sono all'altezza Orazio è un tipo molto fine e quando gli fa sapere tramite mecenate non ha mai scritto niente su di me e lui scrive un'Ode ad Augusto in cui dice ma non ti possiamo distrarre dai tuoi compiti importantissimi con le nostre poesie e quindi elude ancora una volta pur rivolgendosi ad Augusto questo per dire il rapporto con un'intellettualità composta di persone politicamente acerbe anzi incapaci come Virgilio o di persone estremamente accorte come Orazio ma la vicenda come si conclude si conclude che quel colpo di genio dell'Occidente contro Oriente non è un escamotage per vincere a Dazio è una scelta definitiva perché da quel momento in avanti l'architrave la cornice lo spirito del Principato Augusteo è l'Occidente il ripristino dei valori tradizionali contro il marasma il caos il disordine dell'Oriente e quindi la restaurazione religiosa il mos maiorum il problema tremendo che lui presenta come normalizzazione morale ma in realtà è la liquidazione di continue congiure contro di lui fino alla cacciata della figlia e della nipote in esilio la vicenda di Ovidio eccetera all'inizio abbiamo letto quei righi di Gibbon che dice tutto il male possibile di questo perfido tiranno il sagace tiranno rispetto al potere rispetto a una vita consacrata al potere all'idea che il potere è tutto ci sono due strade una è quella del pensiero ellenistico stoico epicureo che Lucrezio condensa quei versi famosi del terzo e poi del quinto libro in cui dice il potere non esiste non c'è è un'apparenza e l'altra strada è quella tremenda di chi si sporca le mani ma non essenzialmente per l'attuazione di un'ambizione soggettiva perché è convinto che l'ambizione soggettiva coincida con un interesse generale della Repubblica e questa è la scelta che ha fatto Augusto grazie a tutti Grazie. Una specie di ricostruzione storica della guerra di Modena, che a Modena è una gloria tutto sommato, una gloria passiva perché era un assedio in realtà. L'organizzatore mi disse guardi noi qua siamo tutti antoniani e io mi regolai, insomma cercai di... Lei mi fa una domanda che può essere ricchissima di sviluppi. Antonio come personaggio, Antonio come politico, Antonio come generale. E non siamo ben messi perché non è rimasta una storiografia antoniana. C'è però un paradosso storico, cioè i discendenti di Antonio confluiscono nella famiglia di Augusto, per cui Augusto amministra un gens che mescola gli eredi di Cesare, gli eredi di Augusto Medesimo e gli eredi di Antonio. E questo continua, per cui Germanico, Tiberio alle prese con Germanico, morte misteriosa di Germanico, è una sorta di prosecuzione di quel conflitto. Poi abbiamo la seconda filippica di Cicerone, uomo al quale io sono molto affezionato, quindi quelli sono antoniani, non dico che io sia ciceroniano, ma certamente è un grande personaggio maltrattato o bistrattato dalla tradizione moderna. Un politico vissuto in tempi tremendi che ha avuto delle intuizioni lungimiranti, a un certo punto Augusto ha fatto scrivere che aveva intuito il Principato, e che è vero in realtà. Comunque con Antonio Cicerone è stato spietato, caricaturale, aggressivo, in modo suicida in certo senso. Noi abbiamo una paginetta che si è conservata grazie al vecchio Seneca nella sesta sua soria, che è la pagina in cui Livio, dal libro 120, quel famoso libro che non era piaciuto ad Augusto, raccontava la morte di Cicerone. E tracciava un bilancio della sua figura, in cui a un certo punto dice, piuttosto aspramente, che certo, morte eroica, affrontata in modo coraggioso, ha offerto la testa a quelli che gliela volevano tagliare, ma se avesse vinto lui avrebbe fatto lo stesso con i suoi nemici, Livio. E questo fa capire che la polarizzazione demonizzante con cui lui tratteggia la figura di Antonio è totalmente falsa. Questo non vuol dire che fosse un gentiluomo, non vuol dire che fosse di mano leggera, ma non lo era nessuno in quel momento. ha fatto errori politici, il primo dei quali, ma è chiaro che è un errore di calcolo quasi perdonabile, in questo Shakespeare è stato perfetto nel raffigurare la situazione all'indomani dell'attentato contro Cesare, non poteva misurare in maniera precisa i rapporti di forza, quindi ha accettato il compromesso. Peraltro essendo console in carica, perché lui era collega di Cesare nel consolato, quindi subentra Dolabella come console su Fectus al posto del morto, però è chiaro che è lui. E quindi ha la scelta o di aprire una fase di guerre civili o di accettare il compromesso, e accetta il compromesso. Primo errore che Ottaviano non gli ha perdonato mai, anzi l'ha utilizzato in maniera totale, continua. L'altro errore è stato di sottovalutare Ottaviano, di considerarlo, come lui diceva ironicamente, un ragazzo che deve tutto al nome che porta. Vero in parte, nel senso che deve moltissimo al nome che porta, ma non è un ragazzo in plume. Cicerone, che pure era molto vanitoso, si vede per casa questo giovanotto che finge di chiedere di consiglio, che faccio, che non faccio, sapeva benissimo cosa fare, però qualche dubbio ce l'ha, scrive ad Attico, è venuto a trovarmi Ottavio, ci ha accompagnato dal suo padre Marcio Filippo, che era uno dei mariti di Azia, quindi, diciamo, o Peleggi si è diventato anche padre di Ottaviano, ma così, tecnicamente, diciamo. Mostra molta dedizione alla Repubblica, però non ci dimentichiamo di chi è figlio. Cicerone intuisce che quest'uomo ha nel retrocervello l'idea che farà quello che ci si attende, che faccia, colui che Cesare ha indicato come suo figlio, è come erede totale, quasi totale. Questo Antonio non l'ha capito. Dopodiché la vicenda egiziana ce la racconta Plutarco, Plutarco è un capolavoro, un romanzo stupendo, vita parallela a Demetrio Poliorcete e Antonio. Non ha neanche senso raccontare la storia capovolgendo le fonti. Non ha senso, perché sarebbe una tentazione forte quella di dire fonti ostili, allora è vero il contrario di quello che raccontano. È un procedimento sbagliato, perché molte volte negli elementi di ostilità, certamente esasperati, ci sono poi elementi reali, effettivi. Cioè Antonio è stato abbagliato dal modello ellenistico di regalità. La regalità ellenistica, lui l'ha vista nell'ultimo regno ellenistico vivente, che era anche il più splendido, il più ricco dal punto di vista economico, dal punto di vista artistico, che era l'Egitto. E quindi, come già Cesare ha avuto un momento egiziano molto forte, che ha risolto portandosi a Roma a Cleopatra, aveva una moglie da una parte e da un'altra si amministrava, più o meno, essendo un grande uomo, se la cavava. Però, anche in questo caso, non chiarendo a se stesso che linea seguire. L'idea che aveva concepito di grandi imprese militari contro i parti, passando attraverso i Balcani, questo che Plutarco racconta, Cicerone in una lettera dice ma è probabile che volesse fare tutto questo, ma per non tornare più. Cioè, inabissarsi in campagne infinite, come Alessandro che va in India e poi vuole andare oltre, e poi muore. Quindi la vicenda egiziana di Antonio va capita storicamente anche nei suoi risvolti personali, nei suoi risvolti etici, privati, privatissimi. E questo, con un gelido avversario come Ottaviano, non va. Cleopatra, lo sappiamo da Dione Cassio, ampiamente ha cercato di sedurre anche Augusto. il quale ha detto grazie e no.